Tanto macchina che sta per lanciare i concorrenti, in partenza veloci Rondinejet, Rumenojet che lottano per il comando, all'esterno svelta anche Raina Paldo, va in testa Rondinejet, si accorde subito Rumeno. Ronaldinho Tress squalificato, all'esterno la progressione di Raina Paldo, 200 iniziali in 15-2, Raina Paldo esterna a Rumenojet, si trascina Roxana Opris, all'argo anche Regina dei Mille, mentre in terza posizione lungo la corda va Rondinejet. E' seguito da Rosa Pallida, squalificato come ha detto Ronaldinho Tress, intanto 31,5 per i primi 400 con Raina Paldo che insiste all'esterno di Rondinejet, che ha comunque graduato a piacere per i primi 600 di gara in 48, davanti alle tribune, Rondinejet, Rumenojet all'esterno, Raina Paldo con in schiena Roxana Opris, ora il giro di gara viene completato in 1-3-1, 15 il parziale davanti alle tribune. Non cambia nulla tatticamente, in terza posizione rimane Runner Fish, davanti Rosa Pallida. E se ne va così il chilometro, percorso in 1-18-4, Rondinejet in vantaggio. All'esterno è sempre Raina Paldo con la terza corsia ora di Roxana Opris, a 500 dalla conclusione, lo scatto è deciso, Roxana Opris va sulla coppia di testa, a 400 dal palo. A contatto rimane intanto Rumenojet sulla curva conclusiva, cerca di riprendersi Rondinejet, sbaglia invece Raina Paldo, completamento della curva finale, ingresso in dirittura d'arrivo, entra in vantaggio Rondinejet all'esterno Roxana Opris, all'interno si lancia Rondinejet, ultimi 100 metri di gara, Rondinejet si avvantaggia lungo la corda su Rondine. Poi anche Runner Fish, ultime battute, sul traguardo vince Rumenojet nei confronti di Rosa Pallida, che sul palo stampa Rondinejet e Runner Fish. 1-17-1, 39 la chiusa, Rumenojet in percorso di rincalzo, segue tutta strada Rondinejet sul traguardo e mezzo, mentre per il secondo sul palo è Rosa Pallida, che ha ragione di Rondinejet e Runner Fish nell'ordine.